Andiamo ragazzi, e andiamo, e andiamo caspita, e andiamo Ragazzi, venticinquesimo risultato consecutivo utile per la nazionale di Roberto Mancini Ragazzi, comunque una super nazionale, una super nazionale ragazzi A me questa nazionale piace, ci credo, ci credo E a giugno ci saranno gli europei ragazzi, e mi raccomando restate sintonizzati sul canale perché ne vedrete delle belle Perché stiamo progettando qualcosa insieme ad Alex e a Glacius, anche se Glacius non è molto tifoso dell'Italia Non segue molto l'Italia, è tifoso dell'Italia, però non segue molto l'Italia Comunque, oggi buonissima prestazione, bel gol di Sensi ragazzi, nel secondo tempo A due minuti dalla ripresa Stefano Sensi che è entrato al posto di Lorenzo Pellegrini Proprio all'inizio del secondo tempo E quindi cambio azzeccato da Roberto Mancini In difesa ragazzi abbiamo un po' pasticciato Mi è piaciuto Toloi e pure Mancini Bastoni nel primo tempo mi ha convinto Nel secondo tempo meno, poi all'ottantottesimo è anche uscito per infortuni È entrato a Cerbi Però abbiamo ragazzi dei giocatori a disposizione anche che stanno a casa Magari stanno o col Covid o hanno qualche infortunio Alcuni sono ritornati perché erano in ritiro Tipo Ciccio Caputo, Mimmo Berardi, Alessandro Florenzi Marco Berratti, ci sono tanti ragazzi che sono tornati a casa perché avevano dei problemi fisici E intanto sto continuando a vedere la partita, non è finita Comunque ragazzi andiamo, nuova vittoria Finalmente 3 su 3 ragazzi 3 su 3 in queste 3 partite che valgono le qualificazioni mondiali 2022 se non sbaglio Bella partita Non c'ho da dire niente A centrocampo ragazzi Locatelli continua a diciamo sfornare buone prestazioni Intanto c'è un calcio di munizione dal limite dell'aria Vediamo, vediamo, vediamo Ah no ragazzi, rigore, rigore Vediamo, vediamo Parte immobile Intanto ci sono 4 minuti di recupero Sono scaduti Intanto parte immobile Parte immobile Sì, caspita 2 a 0 Andiamo Andiamo Ciruzzo Andiamo Andiamo, caspita 2 a 0 E andiamo Andiamo E finisce così E finiscono così Mo' ritorna la Serie A, la Serie B ragazzi Mi raccomando Venerdì Fa pure rima, non so perché Venerdì saremo in live Con Alex Glacius per la partita Lecce-Salernitana Ragazzi mi raccomando Venite che doi dobbiamo di fare per il nostro Lecce Io vi lascio Per questo video è tutto Ci vediamo alla prossima Bella